Mi chiamo Giuseppe, ho 43 anni, lavoro e faccio judo, mi piace fare teatro, mi piace scrivere poesie, ascoltare la musica, mi piace Franco Battiato, so che è assessore allo spettacolo e spero che possa aiutare il teatro dell'università per diventare un'università più diffusa. Franco, per questo conto su di te, ciao!